Vediamo, attenzione Giampiette che dice basta abbiamo superato il limite e denuncio uno di voi Allora ho più o meno intuito di cosa si parla perché l'ho visto, ho visto l'inizio Però poi non sono andato oltre, vediamo un po' effettivamente di che cosa si tratta Mi sa che qualcuno di voi ha proprio esagerato Adesso vi racconto tutto quello che è successo Spero di non dover rifare questo video 800 volte perché le cose da dire sono veramente tante E spero di non sbagliare nei confronti di nessuno perché ci sono degli avvocati di mezzo Non voglio passare in nessun modo nella parte del torto Voglio semplicemente raccontarvi il fatto perché è una cosa gravissima quella che è successa E lo faccio qui su YouTube perché è l'unico mezzo che ho per parlare con quanta più gente possibile E spero di parlare anche col diretto interessato che ha fatto quest'azione Perché so mio caro che tu stai guardando questo video e ti guardo proprio negli occhi Ma partiamo dal principio perché è giusto che tutti voi sappiate cosa è successo Giorno 5 venerdì stavo partendo per zante Quindi inizia la mia giornata normalissima Mi sveglio alle 8 per andare a prendere il volo Uscito di casa mi accorgo subito in macchina che il mio cellulare non aveva nessun tipo di ricezione È successo tantissime altre volte Ho messo subito la modalità aereo e l'ho tolta Ho provato a riavviare il telefono Nulla di fatto Ho estratto e reinserito la sim Nulla di fatto E già la roba mi iniziava a puzzare Ho detto minta ma non è che non ho pagato Non si sono riusciti a prendere i soldi dal conto bancario O è successo un qualsiasi problema X Mai mi si è riaspettato una roba del genere ovviamente Quindi cosa ho deciso di fare Sono entrato nella mia area clienti Del mio gestore Gestore che non citerò in nessun modo all'interno di questo video Perché ripeto ci sono dei legali di mezzo Entro all'interno della mia area riservata E leggo il mio numero ovviamente Di cellulare Il mio ex ormai numero Adesso vi racconto L'ho scritto sotto Linea non attiva Lì per un attimo mi si è gelato il cuore Ho detto Ma che caspita è successo? Preso dal panico Perché giustamente Stavo partendo Verso la Sì esatto Se non paghi Cioè anche se non hai Il credito nel telefono Comunque ti prende in ricezione Semmai non puoi fare le chiamate Ma comunque di prenderti Ti prende Quindi no Non reggeva questa cosa In effetti Carlitos Sono d'accordo La Grecia Avevo necessità Di avere il numero E avere la sim attiva Perché come facevo Ad affrontare un viaggio Tra l'altro era anche un viaggio Tra virgolette Di lavoro Perché ho dovuto fare Dei lavori Lezzante Che poi vedrete Nei video futuri E avevo la necessità No non li voglio vedere Di avere questo numero E avere una sim Ero già praticamente A ridosso dell'aeroporto All'aeroporto non avevo Nessun modo di creare una sim Perché quantomeno All'aeroporto di Palermo Non c'è nessun gestore Che ti permette Di attivare delle sim Lì in loco E quindi presso dal panico Prendo il telefono di Marika E chiamo l'assistenza Del mio gestore telefonico Del suo cellulare Chiedo ovviamente L'assistenza Per un altro numero Inserisco il mio numero E mi passano Un operatore Dall'Albania Ora non me ne vogliono I gestori telefonici Non me ne vogliono Gli operatori che lavorano Dalle altre parti del mondo Però la comunicazione Fra me E questi operatori È stata veramente difficoltosa Ragazzi Allora qui Appoggio quello che sta dicendo Posso dire Io posso capire Quando si appoggiano In outsourcing A call center Dall'est Europa Eccetera Però certe volte A me è capitato Di parlare con Albanesi Rumenio Quello che Che non capivano Un cazzo Non capivano Un cazzo Un cazzo Uno non vuole Ma assolutamente Uno non vuole Mettere in dubbio La preparazione Tecnica Che hanno Ma l'italiano È importante Se ti rivolge A un pubblico Italiano E davvero Ragazzi Non capivano E non facevano Capire un cazzo Lo capisco E sono gestiti In outsourcing Cioè nel senso Che demandano A un'azienda Albanese Rumena Perché costa di meno E di solito Parlano un italiano Scarsino Ma che comunque Ti capiscono E si fanno capire Ma mi è capitato A più riprese Gente che non faceva Capire un cazzo Quindi lo capisco Giambito E che è capitato Anche a me Tant'è vero Che ragazzi In quei casi Ho chiuso il telefono E ho richiamato Sperando che mi rispondesse Uno che ne capisse L'italiano Cosa Fatto sta che mi risponde Appunto Questo operatore Dall'Albania Mi racconta il fatto Dico guarda Ho visto che c'è la mia linea Disattivata Non ho più Non ho provato a avere il telefono Più volte Blablabla Altrimenti loro mi avrebbero detto Varie cazzate E lei subito mi ha detto L'operatore Immediatamente mi ha detto No guarda La tua linea è stata sospesa Perché c'è arrivata Una richiesta Di cessazione Della linea In data 5 giugno 2024 Alle ore 4 e 17 del mattino E io già lì Ho detto Scusa Ma chi è che ha fatto queste richieste E giusto Non io Mi racconta che C'è stata questa Richiesta di cessazione Della linea Fatta un mese prima Poi per farla avvenire Effettivamente passano 30 giorni Infatti a me è successo poi Il 5 luglio E qualcuno Al posto mio Ha chiamato il mio gestore telefonico Ha comunicato i miei dati Ha comunicato i miei dati personali Si è impersonificato Nella mia persona Si è spacciato per me E ha disattivato il mio numero Tramite chiamata Al numero clienti Del mio gestore E tramite registrazione vocale Ma scusate ragazzi Ma io va bene Allora Non mi sono stupito più di tanto Perché fino a qui L'avevo sentito Poi ho chiuso il video Ecco da qui in poi in blind Però Ma io mi chiedo Ma come cazzo è possibile Una cosa del genere Cioè come è possibile Che si possa Consentire una cosa del genere Ma allora veramente Siamo nelle mani di nessuno Ragazzi Ma che vuol dire Ma come è possibile Qui stiamo prendendo per buone Le parole del buon Jumpy Tech Ci vogliamo credere Perché ci dobbiamo credere Sta raccontando Però come cazzo È possibile Ragazzi Questa roba è importantissima Ma allora chiunque Gli sto sul cazzo Chiama e mi fa sospendere All'ina telefona Ma che cazzo vuol dire Ma ci vogliono mille test Per capire se sono io Cioè una volta ragazzi Non avevo Avevamo smarrito la password Del nostro Paypal E per farci accedere A Paypal Ci hanno chiesto pure Di Quanti peli nel culo avevo Giusto Giusto così Poi per fortuna Ho contato i peli nel culo Glielo ho detti E mi hanno fatto entrare Però Invece per una cosa del genere Subito ti fanno Ti sospendono la linea Perché chiama uno qualsiasi Peraltro con la conferma vocale Che avrà Cosa avrà usato Forse l'IA L'IA per simulare la voce Di Jumpy Tech Se è così Ragazzi Il mio video è soltanto La punta dell'ice Perché sul discorso IA è deepfake Una cosa incredibile Ma Io un attimino sbigottito Non sapendo che fare Dico Scusa ma io ho bisogno Ho necessità Che il mio numero venga Immediatamente riattivato Perché sono in aeroporto Sto nel panico Sto per partire Sto per andare in Grecia Sono nella mea Al che questo operatore Mi continua a dire Ah non si può fare niente Non si può fare niente Ormai non si può fare più niente Devi mandare una PEC Devi fare questo Questo e questo E quell'altro Mi faccio dare il numero di PEC E inoltre Immediatamente una PEC Anche scritta in maniera Un po' sgarbata Però vi giuro Che ero arrabbiatissimo In quel momento Al mio gestore telefonico Spoiler Bravo Cringe Division Esatto Mai ricevuto risposta E ad oggi sono Esatto Grato snuar Che gli ho scritto Preso ormai dal panico E dall'ansia Siamo ai livelli Di quelli che ordinano Le pizze Al vicino di casa All'amico che gli sta sul cazzo Oppure all'amico Che magari non gli sta sul cazzo Ma vuole fare uno scherzo Sì allora vorrei 27 margherite Al via Dei gerani Numero 14 Chiude E gli mandano le pizze Dai Ero rassegnato appunto Di non avere più Un numero Richiamo più e più volte Il servizio assistenza Del mio gestore telefonico Chiedendomi di passare Un operatore italiano Perché gli dovevo spiegare La situazione Volevo che il mio numero Venisse riattivato In quel cazzo Distante Preciso Fatto sta che Ogni volta che chiedevo E mi rispondevano Gli operatori dall'Albania Io dicevo Pronto Voglio parlare con un operatore italiano Sì lo puoi fare Tranquillo Ti stiamo passando Gli operatori italiani Nessun operatore italiano Mi ha mai risposto Sono stato più di 40 minuti In attesa E non mi ha mai Risposto nessuno Prendo l'aereo Mi imbarco per Zante Volo a Zante Arrivo in hotelle Per fortuna Esistono quei servizi Dove tu ti puoi creare Le eSIM Direttamente da app E ho creato Una eSIM greca Per poter sopravvivere Quei giorni Ed ero sconnesso dal mondo Con tutti i miei familiari Per fortuna Esistono le chiamate Su whatsapp simili Non avete idea Del danno Che mi avete recato Del disagio Che mi è stato recato In quel preciso istante E in questi miei Cinque giorni Di vacanza Doveva essere anche In realtà Il mio Pseudo viaggio di nozze Un anticipo Del viaggio di nozze Ma è stato Totalmente rovinato Da quest'evento Morale della favola Nulla si può fare Recuperare il mio numero È impossibile E non posso richiedere La riattivazione Di una linea Cessata L'unica cosa Che si può fare A detta dell'operatore È richiedere Il Diciamo Riutilizzo del numero Quindi fare una nuova sim E dire di utilizzare Quel numero Che comunque va fatto Una richiesta Una serie di robe Blah 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 Cosa che io non voglio Assolutissimamente fare Perché quel numero Non lo voglio più Ovviamente Ho subito Impugnato La causa Mi sono immediatamente Documentato Con il mio avvocato Se c'erano gli estremi Per procedere Con una denuncia E ovviamente Il mio avvocato Mi ha detto Immediatamente Certo Perché questa persona Ha dichiarato Il falso Ha dato Dei documenti Dei dati Spoiler Dati davvero semplici Ragazzi io non la farei passare Mai una cosa del genere Io andrei fino in fondo Fino a togliere Tutto quello che ha Questa persona Lui e tutti i suoi familiari Fino alla Fino a cinque generazioni Prima di lui Non la farei passare Mai ragazzi Mai Sarebbe l'unica motivazione La ragione Della mia vita Da quel momento in poi Mai E io non so Se l'avete notato Ma sono uno Che su queste cose Non scherzo Codice fiscale E luogo di nascita E capite bene Che potrei Se io volessi Bloccare il numero Che ne so A Matteo Renzi Così per dire non a caso Mi basta semplicemente Conoscere il suo numero Il suo gestore Basta Perché so No non può essere Però dai ragazzi Non può essere Non può essere Ci sarà una falla Del sistema Non può essere Non può essere Che basti conoscere Il numero E il gestore Non può essere Serve anche il documento Non può essere Così facile Grazie all'Efe Grazie mille Mi sembra troppo strano Non può essere Secondo me Lui Gli hanno Gli hanno fottuto Il documento Da qualche parte Non può essere Ed è veramente Raccapricciante E incredibile Che una sim Si possa bloccare Con così tanta facilità Senza che il gestore Si assicuri Che dall'altra parte Del telefono Ci sia veramente La persona Proprietare del numero Ma il codice fiscale È una cazzata Che a me non mi è mai arrivato Né un sms di conferma Né una mail di conferma In modo che io potessi intervenire Per bloccare questa sensazione di linea Entro i 30 giorni Ma questo non mi è mai arrivato Ed è per questo che stiamo agendo Anche contro il gestore telefonico Perché è impensabile Che un gestore telefonico Blocchi una linea Con così tanta facilità Senza assicurarsi Che dall'altra parte Ci sia la persona reale Intestatare del numero Arrivato in Italia Quindi oggi Stamattina In realtà Passiamo di nuovo Il numero del mio gestore telefonico Stavolta per fortuna di Dio Mi rispondono dall'Italia E mi risponde un operatore Più gentile E con cui ha avuto Un'ottima chiamata Di circa 20 minuti Che mi ha spiegato Che recuperare il mio numero È impossibile Ma c'è un ma ragazzi Abbiamo scoperto Molte cose Dopo che L'operatore al telefono Si è assicurato Che fossi io Stavolta veramente Dall'altra parte del telefono E dopo che hanno capito Che la situazione Era un po' grave Siamo riusciti a risalire Alla registrazione vocale Dell'utente in questione Che tra l'altro banalmente Si trovano nella mia area personale Del mio gestore telefonico Mi è bastato cliccare Download E voilà Ecco che ho ascoltato Tutta La chiamata di Beh doc 981 Me la prenderei con tutti Scusa eh Ha sbagliato l'operatore L'operatore Finirebbe di esistere Finirebbe di esistere Raiden Ti prende in sé E fa chiudere La Vodafone Ma Te la devi prendere Anche con quello Che ha fatto sto scherzo Te la devi prendere Per forza ragazzi Non si possono fare passare impunite Ste cose eh Di questa persona Ho ascoltato la sua bellissima vocina Che tra l'altro era un ragazzo Maschio Non so l'età Non la so definire Ma penso sull'adolescenza Quasi 18 anni circa E lui con noscialanze Ha dato tutti i miei dati Nome Cognome Codice fiscale Data di nascita E luogo di nascita E ovviamente il mio numero di telefono E mi ha bloccato il numero Ma mio caro Questa registrazione vocale Ti ha fregato Perché ovviamente Tu hai chiamato da un numero Questo numero è rimasto Sui sistemi del mio gestore telefonico Il numero è tracciato Sappiamo il tuo numero di telefono Da dove hai chiamato Abbiamo la registrazione vocale Tutto questo materiale È già in mano Ai miei Ma scusate È un coglione Ma è un coglione Cioè io pensavo Che avesse usato Delle registrazioni Campionate Di Jumpy Tech Per fargli dire Sì Vabbè Sdrammatizziamo un attimo Però che fai dire Sì voglio sospendere Il mio account Esattamente come Ho sospeso la Tesla Cioè Capite? Una cosa del genere No? Pensavo Che usasse un IA Che campionasse la voce Di Jumpy Tech Che addirittura Avesse usato Delle registrazioni Di Jumpy Tech Che diceva Sì sì Voglio sospenderlo Basta con questa cosa Invece No Cioè ha usato la sua voce Tipo Sì voglio Sospendere Sì sono Jumpy Tech Sì sono Jumpy Tech Voglio sospendere la cosa Sì 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 Ma è una cagata Qui l'operatore Ragazzi Ha fatto Proprio una cagata Totale Però pure lui Un cretino Scusatemi Un cretino Cioè ha dato Cioè la sua voce Cioè il numero Dal quale ha chiamato Vabbè raga è fottuto Scusatemi Cioè ha detto proprio Fottetemi Via dai Via Voglio farmi Voglio farmi fottere Analmente da Jumpy Tech Che mi dirà Sì sì Ma avrà 15 anni Pagherà per la sua età In proporzione alla sua età Ma pagherà E Tra l'altro Cioè sta cosa Ragazzi Non so se avete mai visto La puntata dei Griffin Dove c'è Joe Che è quello sulla sete In rotelle Che a un certo punto Deve fare l'imitazione Di Stevie Griffin A Lois E la fa Senza farla Chiama Sì ciao Lois Sono io Il bambino Puoi dire Il bambino Sembra una cosa Del genere Ragazzi Mettiamola 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 Un attimo Mettiamola Mettiamola Eccoci Ma è in inglese No in italiano In italiano Fa Fa riderissimo In italiano Fa riderissimo Vabbè Non c'è in italiano L'ascoltiamo in inglese Via Mettiamola 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 Il telefono Faccio un grande Stewie Ehi Lois Sono io Il bambino Ciao Stewie Ehi Lois Sono io Il bambino Sono Sono Stato A casa Momma Ti Mi Bene Tra Mettiamola Mettiamola Mi avvocati Perché questa volta Non la passi liscia Caro mio Posso sopportare Gli scherzi telefonici Posso sopportare Che il mio numero Giri online E qualcuno mi chiami Dicendomi Ciao sei Jumpy Tech O che cazzo ne so io Posso sopportare tutto E ho sopportato davvero di tutto Ho cambiato numero Nella mia vita Più di tre volte Ma stavolta Ciao sei Jumpy Tech E lui come risponde Ragazzi Come risponde Dai Eh Esatto Sì Andati davvero Oltre Qui addirittura Si rischia A detta del mio avvocato Se ci sono gli estremi Il penale E vado a citare L'articolo 494 Del codice penale Sì sono io Lo youtuber Lo youtuber Si Procurare a sé O ad altri Un vantaggio O di recare Ad altri Un danno Induce taluno In errore Sostituendo Illegittimamente La propria All'altrui persona O attribuendo A sé O ad altri Un falso nome Un falso stato Ovvero una qualità A cui la legge Attribuisce Effetti giuridici E' punito Se il fatto Non costituisce Un altro Beh non è una cazzata Danissus Non è una cazzata Dai È arrivato ragazzi Non mi fermerò Mi dispiace Se chi ha fatto Questo gesto Voleva scherzare Ma qui si è andato Oltre lo scherzo Andrò fino in fondo Alla questione Andremo Fino in fondo Alla questione Finché non otterrò Giustizia E scoprirò Tutto Di questa persona Che ha fatto Questo danno Che mi ha recato Questo danno Perché bloccare Un numero di telefono A una persona Che con il telefono Ci lavora Significa privarlo Del suo lavoro Delle sue comunicazioni Ma non esiste Chi ci lavora Non si fa e basta Ho avuto difficoltà A sentire mia madre Durante il viaggio Ho avuto difficoltà A comunicare Durante il viaggio Ho avuto difficoltà Ma non devi Non devi spiegare Cosa non hai potuto fare E' una cacata Non si fa e basta E non avendo più Accesso a quel numero Per riattivare Le autenticazioni A due fattori Danissus Allora raccontiamo Solo di quando Stiamo per morire E che cazzo vorrei Danissus Questa è una cosa Abbastanza Gravina eh Gravina Dai Eh dai Ho dovuto sopperire Le pene dell'inferno Per ricevere assistenza E rifare chiaramente Tutti i passaggi Per la verifica Dell'identità della persona Quindi qui ragazzi Siamo andati Oltre il semplice Scherzo telefonico E' impensabile Che qualcuno Vada a disattivare Il numero di telefono Ah doc 98 981 Io non sono d'accordo eh Il 15enne fa cazzate Tutti abbiamo fatto cazzate A 15 anni Io non me lo sognavo Di fare ste cazzate A 15 anni 1 2 Ognuno paga Per le cazzate Che fa in proporzione Alla sua età 3 Non è detto Che abbia 15 anni Può darsi che sia Un ventenne Un diciottenne E paga Punto Come pagherebbe anche Il 15enne In proporzione Alla sua età E' chiaro che A 15enne Ci sono delle modalità Diverse Ma paga lo stesso Che vuol dire? Che vuol dire? L'operatore Ha fatto un importante Errore gravissimo Che Giampidec Ha denunciato pure L'operatore Da quello che ci ha detto Però ragazzi Non esiste Si fanno passare impuniti Le persone Solo perché Ci hanno 15 anni Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Io a 15 anni Mi facevano cascare La testa per terra Se faceva una cazzata Del genere Ma di che stiamo parlando? Persona E chiaro Non è che lo stiamo Condannando a morte Ma Poi tutti Facciamo le cazzate Ma regà Ma io a 15 anni Non le facevo Ste cazzate Ma che vuol dire? Ci sono 15 anni E 15 anni E a 15 anni Ero bravo Ero un bambino Bravo Che vuol dire? Ci sono quelli Che a 15 anni Ammazzano le persone Allora facciamogli Le cazzate Facciamo tutti Cazzate a 15 anni Dai Hanno fatto solo Uno spaccio Di cocaina Eroina E omicidio Che cazzo Se ne frena A 15 anni Ma che vuol dire? Te ne vai al riformatorio Te ne vai Al carcere minorile Ma ci vai Eh Penso che io non lo farei Nemmeno al mio peggior nemico È davvero una cosa Fuori dal mondo Si è superato Ogni limite Mi dispiace di aver fatto questo video Ma come vi dicevo all'inizio È l'unico modo Che ho per comunicare Con quante più persone possibile Voglio che tu Che hai fatto questa roba Stai guardando questo video Perché sappi Che prima o poi Ti verremmo a bursare alla porta E pagherai Per tutti i danni Che mi hai causato E per tutti i disagi Che mi hai provocato Con queste cose Non si scherza E ricordatevi Che a tutto C'è un limite Sì